Sede dell'Officina del Senatore Luciano D'Alfonso, questa mattina la presentazione della prima edizione del premio Lucio Marco Tuglio. Una promessa mantenuta da D'Alfonso, l'idea di istituire il premio di laurea magistrale dedicato al fondatore dello storico marchio di alta moda Brioni Roman Style, mecenate e già sindaco della città di Penne, la lanciò nel corso del convegno Marco Tuglio Merita Memoria, lo scorso luglio, nella sala consigliare del Comune di Pescara. Abbiamo chiamato a raccolta le opportunità di tre università sul piano della conclusione del percorso formativo, scienze politiche, economia e architettura, ponendo a tema il merito e il premio con merito per quanto riguarda la qualità della decisione pubblica e della formazione per essere decisori pubblici. Come si diventa decisori pubblici con qualità? Una tesi di laurea su questo da premiare. Così come il tema del rapporto piccolo-grande per quanto riguarda le zone interne dell'Abruzzo, degli Appennini, di questa Italia dello specifico che corre lungo l'Appennino. E il terzo tema, la bravura nella gestione dei prodotti specifici di realtà che ci sono ovunque in Italia. Gli aspetti di economia gestionale che di sicuro Marco Tuglio ha saputo tratteggiare e coltivare durante la sua bella, riconosciuta stagione di insegnante, di professore. Tre borse di studio, 2.000 euro l'uno, messi a disposizione dalla mia condizione giuridica del Senato, di senatore in Senato, che presenta queste opportunità. Questa volta all'indirizzo di questa opportunità. Lo faremo ogni anno, riconsegnando alle giovani generazioni l'opportunità anche di premi e di borse per studiare. Il patrocino è dei tre atenei abruzzesi, ma si può partecipare da tutta Italia? Assolutamente sì. Questo vuole essere non solo un omaggio alla memoria di Lucio Marco Tuglio, ma vuole essere soprattutto un esempio da indicare ai nostri giovani per far comprendere bene loro come sia possibile innovare, come ha fatto Lucio Marco Tuglio, innovare nella gestione di un'azienda, innovare nell'amministrazione di un territorio, innovare nella pianificazione territoriale del territorio. Vuole essere un incoraggiamento. Io credo che questo sia un ulteriore regalo che Lucio Marco Tuglio fa alla nostra comunità, ponendosi meritatamente come esempio di innovazione e di dedizione sociale, di inclusione sociale, attraverso la gestione dell'azienda, attraverso la gestione dell'ente, del comune, che è stato chiamato. Grazie.